ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo durante una vacanza in un hotel un uomo sente degli strani rumori provenire dall'armadio l'uomo si avvicina apre l'armadio ma non trova nulla di strano a parte questo strano buco sotto la piastrella del pavimento ciò che riprende dopo ha dell'incredibile ma andiamo a guardare il documento a a a a Grazie a tutti In una strada del Messico una telecamera di sicurezza cattura quella che sembra essere lo spirito di una giovane ragazza, semitrasparente, che passa tranquillamente per questa stradina. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Grazie a tutti. 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 Una telecamera di sicurezza riprende questa strana creatura a girarsi di notte vicino alcuni edifici abbandonati. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Grazie a tutti. 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 Non è più difficile Cosa è questo? Inizialmente, inizialmente! Inizialmente, inizialmente! Inizialmente, inizialmente! La sua moglie di inserire Il nome di Allah Il nome delle caratteristiche Il nome della città Il nome del nome Il nome del nome Il nome della città Il nome del nome Il nome della città Il nome della città L'aritza E non deve essere anche la città Dove essere Il nome del nome L'ultimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Il video mostra una macchina che esce fuori strada andando a schiantarsi vicino a una colonna. Nell'impatto il conducente muore e vicino alla colonna appare una strana sagoma oscura che appare scompare in frazioni di secondi, come se fosse stata proprio lì a causare quell'incidente. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Allora, qui viene. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti